Eccoci qua, abbiamo appena mangiato qui la torta alla straga, io sono con Solange, mitica Solange, ciao Solange, ma è vero, scusa, diciamolo, mitica Solange, come stai? Fa benissimo, te sei bellissima, sei intonata con l'estate, bianca e gialla, ore che adoro, bene, il programma va benissimo Va benissimo, a posto, fantastico, te cosa stai facendo quest'estate? Dove ti troviamo in vacanza? Il programma sulla Rai 1 e poi c'è un mio spettacolo che si chiama Soltanto i capelli non si vergognano, vado in giro in tutta Italia Senti ma in vacanza invece le ferie dove le fai? Ma io amo, per me lavorare in vacanza, poi la Toscana è bellissima, la straga lo è meraviglioso! Eh oh Solange! Guarda, hai visto che torta originalista? Fantastica, guarda, originale, è vero Solange, noi che facciamo questo lavoro siamo fortunati, no? Perché viviamo, ci divertiamo e siamo quasi sempre in ferie, diciamo Ma poi c'è da dire una cosa, non per farti un complimento, ma tu sei solare È vero! Sei solare e soprattutto quando ti ho detto le cose ci ho sempre indovinato, vero? Dì la verità! Confermo, ci indovina sempre!